Madrid, da Germania, da Düsseldorf, Canada, Ottawa, Canada, da Genova, Sicilia, da Vicenza. Firenze, come altre città d'arte del bel paese, si conferma ancora una volta una delle mete preferite per il ponte di Pasqua. La seconda famiglia di Genova che incontro qui a Firenze per la Pasqua. Perché Firenze? Perché volevamo far scoprire alle nostre ragazze le cose speciali che offre l'Italia, non solo Genova, ce l'abbiamo vicina e non potevamo non venire. Tanti visitatori stranieri, i numeri sono tornati ad essere quelli della pre-pandemia. Sono in aumento i turisti statunitensi, spagnoli, in lenta ripresa alcuni mercati extraeuropei come Cina e Canada, assenti invece i russi. E' Mexico, Tlaxcala. Prima vez in Italia. Prima vez in Italia. Prima vez in Florencia. Prima vez in Florencia. No sarà la ultima.